Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft It, è il 28esimo video che oggi registro e andiamo così Cazzo, ho fatto più video sti giorni, penso che, non lo so, in un mese, preparando i video per una settimana Perché sto fuori tutta la settimana, sto a padua, a padua Ma questa è tutta un'altra storia stasera, che cosa andiamo a fare adesso? La cosa fondamentale da fare adesso è andare into the nether, a prendere nella fortezza, quella che vi ricordate la fortezza Che vi dicevo, poi madonna mi è venuta un'idea eccezionale per la base del nether, perché tipo per finirla in maniera eccezionale Ok, eh lo so, c'è sempre sto problema, comunque già, vi giuro, già mi piace di più rispetto a prima Perché prima faceva oggettivamente schifo, era una cosa che non si poteva vedere Adesso è molto molto più figa, hey guys, butta 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 Qui abbiamo, possiamo lasciarlo anche aperto sto coso, perché è figo secondo me il fatto che sia aperto, qui poi butta roba Vabbè, vabbè, mi, mi expira, mi expira Mmm, questo minecart, minecart, giusto sì, ok, passiamo da di qua Ah no, 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 aspetta, ma io la fortezza, da dove ci andava la fortezza? Da di qua, no, giusto? A parte che sta qui, tipo, no, non l'ho rotto, bene, buono, grande freak Sempre peggio, non prendere fuoco E adesso siamo qua, apparentemente nella fortezza già siamo arrivati E voglio trovare uno spawner di blades Mi serve uno spawner di blades per il se... eccolo qua, detto fatto Detto, fatto Mori male, ho una freccia E non ho paura di usarla, that's your bitch Ah, sto blades è venuto fuori necessariamente da qualche parte, da qualche farm Ergo noi Ma io lo aspettate, eh C'ho un ricordo Io ricordo di aver fatto una farm di... nel nether, tipo di blades, no, di questi stronzi di Wither Skeleton e altro Però non mi ricordo se era in questa stagione o nella quinta Mi aiutate, ma probabilmente nella quinta, perché sennò dove cazzo l'ho messo io? Cioè necessariamente nella quinta Io volevo arrivare di là E ci arrivo così Tac Buono, oh ecco qua, perfetto Spawner di blades trovato E adesso l'idea è la seguente Dobbiamo smantellare tutto Dobbiamo smantellare tutto, allargarlo Dato che qua, vabbè, ce la facciamo abbastanza easy Sperando che non mi spawni nessuno addosso Perché oggi voglio fare una farm di blades Esatto Madonna, ecco, questo mi sta sul culo però Uno l'ho seccato così L'altro lo secco così Mamma mia Pro Best Arcere Come, arce, aspetta Oddio, ho un attimo E, ecco, non spawn Eh, tre insieme spawnano i bavosi Allora, voglio fare una farm di blades figa Ma è tipo molto easy E secondo me è figa un botto Servirà per prendere più che altro l'esperienza E vedere se davvero Non so se funzionerà bene come l'ho vista funzionare io Ci proviamo Ma che dite, ha spawnato qualche blades? Io mi sono chiuso un attimo Paura E poi devo fare anche la V2 Esatto Questa è la versione 2 Del riparo Perché, tipo, devi bloccarti i lati No, no, no Queste, guardate, funzionano un botto Perché, tipo Ecco Io non so come cazzo mi ha shottato Allora, no Best shotter EU Ah, no Questo non ci va qui Va questo qui Questo va qua sopra Questo va messo così Ok E questo va messo di qua Così Perfetto Ecco, così Loro non mi possono shottare sicuramente Sono praticamente protetto Ho una diagonale ma è piccola Poi la vacca Mi hanno spintonato di sotto Ma proprio male Ah, quanti utilizzi ha sto piccone? 170 Madonna Ragazzi, 170 sono pochi Cioè, c'è tipo troppa gente Ma perché volevo fare una farm Solo che sono in un luogo oggettivamente molto esposto E sono spawnati 647 blades Ora, lì il punto Il coso va chiuso, no Perché va ovviamente chiuso Una volta che sarà chiuso non ci saranno problemi Pensavo di farlo con il vetro Addirittura una cosa del genere Ehm E tutto il resto Quindi magari torniamo a casa Prendiamo già del vetro Lo mettiamo a cuocere Prendiamo del vetro E iniziamo a fare qualcosa di figo Ma che cazzo Ora, in verità, no Cambiato idea Alla grande Datemi questo Tac Tac Prendilo Perfetto Adesso voglio andare a creare La base almeno della mia piattaforma Perché Mi fa Mi serve una base E allora Voglio utilizzare Ma che cazzo Guardate quanti sono Ma vi rendete conto quanti blades sono? Io non lo so Se avete una vaga idea Di quanta gente ci possa essere Ok? Comunque voglio iniziare intanto A togliere tutta questa parte Dobbiamo scavare e rendere Questo basso Tipo Diversi blocchi devo abbassarlo E ancora Perché sono Calcolate uno Due Tre Tre blocchi Possono andare bene Un altro Prendete un altro blocco E ci siamo Abbiamo completato il tutto E poi potremmo allargare la piattaforma Dobbiamo farla Otto per otto Nove per nove in verità No perché otto Quattro da una parte Quattro dall'altra E quattro ancora Quindi Sarebbe veramente Uno, due, tre, quattro Quindi fino a qui Mori Bestiaccia E tutto questo serve per poi Gli slot di spawn ovviamente Quindi Cazzo là ci dobbiamo allargar parecchio Mori Ah e qui ho finito io Bene Molto bene Cazzo male 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 Molto male Leva questo E sì ok Faccio tutto sto lavoro Cioè vi rendete conto che hanno fatto breccia anche qua dentro Che è una cosa veramente impossibile E ci sono un botto che stanno entrando Ecco noi andremo a sfruttare proprio queste dinamiche dei blades Che ci aiuteranno un botto Questa intelligenza artificiale così bella e così particolare Che ci aiuta un sacco nel fare farm Ora so che sono spawnati una quantità di blades astrale Ergo noi non ci possiamo muovere Cioè di grazie che sono riuscito a fare tutto quel coso ma Devo fare tutto il contorno col ferro E poi creare la base Sarà difficile Impossibile quasi Ma non ho colpito Ecco questa è una missione suicida Ma completamente suicida Non fate mai una cosa del genere Ecco infatti Guardate quanti sono Guardate quanti mi stanno sparando Quanta gente mi sta sparando Ecco qua che sono caduto pure Però c'ho l'ender pearl Posso tranquillamente risalire Eeeh 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 Buori male Ci ha dato la testa? No Magari eh Adesso dobbiamo ritornare su però E io posso ritornare su in che maniera? Cioè ma è davvero incredibile sta cosa Ma guideranno pure guiderato Ma che cazzo veramente Cioè delirio più totale qua Sta succedendo No 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 Ci guidiamo un attimo Fa proprio 30 secondi Giusto per capire un attimo La questione Come affrontarla Abbiamo un'armatura della madonna Ma si sta spaccando E cazzo L'elmeto Durabilità 30 Ce la dobbiamo togliere per forza Via Leva questo 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 E questo E via dentro Eeeh Ci donne dobbiamo Tornare a casa E poi E poi e poi e poi tornare Una volta che si hanno desponato tutti questi stranzetti Allora facciamo un attimo il briefing E della situazione Ho l'attrezzatura devastata Tranne la pettorina Perché c'ha Mending Eeeh Il piccone devastato Peggio di cosa Ho finito il ferro Non ho lea di tra Peggio di così Non potevo andare Non credete Io credo di sì Ergo Ergo Questo Questo E questo Ho delle blazerod Che ho portato a casa Eccoli qua 16 blazerod Mega Ions Vediamo un po' se posso Oh qua c'è del carbone Ma mi serve Quindi fotte sega Metto qua Delle blazerod Che poi cuociano un botto Le blazer Ah ma qui c'è del C'è tanto carbone Ah carino Eh ho finito il carbone Mi serviva Dammi il carbone Invece di fare Il bavoso Bravo Oh eccezionale Direi Questo ce lo riprendiamo Un attimo Momentaneamente Due stack di vetro Noi ci facciamo Praticamente un cazzo Perché dobbiamo Ce ne serve di più Vabbè io più che altro C'ho la farm Mi metto lì e farmo Ok Questo sarà quello Che andremo a fare Ho recuperato uno stack Praticamente di carbone Molto molto bene Direi Tac Vabbè faccio un po' così Aspetto che questo sia cotto E poi ci rivediamo Appena è finito Allora on dance Siamo di nuovo qua Ho fatto il refill di ferro Ma poco Ho tolto l'elmetto Col cazzo che me lo porto dietro Ho preso il vetro Ok Adesso veloci Come il vento A mettere il vetro Ma proprio Stealth Rapidi come i furetti Rapidi come i furetti E calla subito Ma proprio Non puoi star 30 secondi tranquillo Che ti vengono a rompere I gabbasisi Mamma mia che palle Ah ok Questo non mi ha preso Per fortuna Sì ma Ecco Già spuna Spuna gente Però se io sto in un ring Tipo Come questo Ovviamente Loro non possono uscire E io li posso menare Quanto mi pare E poi non aumentano Perché li posso anche uccidere Questo fa bene Al Mori male Cazzo sono preso fuoco Tipo Dai dai veloce Devo mettere più vetro possibile Dobbiamo fare più roba possibile Ecco qua Tac Tac Vai così Io però ne metto un'altra Di strato E allora Porca miseria Sta iniziando a prendere forma Però certo È problematica come cosa Allora stavo pensando Di mettere intanto Qui Tipo Alcune cose Riprendere un po' di vetro E mettere del ferro Perché è un po' più Ma sapete che No 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 Dammi questo È bello che si vedano Ok Però io come cazzo Io non devo entrare Da sta parte No giustamente Ergo Fanculo tutto Ciao Grazie Tante care cose Via Spegni Bravo Free Buono Ok A me non serve Ok Il fatto che si vedano E tutto il resto Quindi Adesso qua un po' di ferro Serve perché Dobbiamo fare un'altra barricata Direi Ma sì Una cosa tipo Pesantissima Una cosa qui in mezzo Ce la mettiamo Che fa così Ecco qua Cioè proprio A slalom dobbiamo fare Però almeno Non ci vengono a prendere E questa sta diventando Sempre più un posto sicuro Menomale Una cosa easy Tac Tac Ok Questo è più o meno un posto sicuro Perché guardate i cazzo I giri che devi fare Per uscire Eh dai Non credo che un blaze Faccia tutta sta roba Per venire a prendere Almeno che non è un grandissimo stronzo Ora Un'altra cosa che voglio fare È fare un ingresso qua Mettere delle torce Perché Beh Le torce vanno sempre E poi Arrederemo però successivamente Il tutto Eh La faremo Una cosa Postuma e successiva Assolutamente Eh Guardate Già sta prendendo un po' di forma Se gli diamo tutto sto coso Gli diamo una forma un po' più carina Magari un po' di stone brick E tutto il resto Viene pure figo No Ok Va bene E qua Se arriva la farm Che poi finiremo Ho fatto qualche piccolo progress Off camera eh Eccoci qua Allora ho fatto tutta sta roba Ok Ho finito il vetro Tutto il vetro È qui Basta Non c'è nient'altro Poi mi sono avanzati Dieci pezzi Tipo una cosa ridicola Ok Adesso dobbiamo salire E chiudere Il tutto So che è dura Perché ci saranno Mostri che ce l'avranno con noi Però Necessariamente Dobbiamo farlo Dobbiamo chiudere sta farm E Sì Allora Qua dobbiamo bucare il tutto Fare così Ok Iniziare a mettere sopra Il tetto Ora se sti stronzi Non venissero a darmi fastidio Sarebbe gradita come cosa Col cazzo Col cazzo Dammi una freccia Sfreccialo Bim No finito di freccia Merda 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 È perché questi poi escono No Questo è il problema Ci metterò vent'anni Ci metterò vent'anni Parte 2 Vai Via 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 Eh Madonna Dei blades Cioè Queste sono le cose veramente impossibili Che non riuscirai mai a fare Una volta che abbiamo chiuso Comunque è fatta Non ci servono più Il problema è come cazzo chiuderle Eh Madonna Che palle Guarda Ma veramente Sono noiosi Cioè il fatto è noiosissimo Perché poi ti spawnano in continuazione Allora ti incazzi E fai queste Non ci riesci E risuvere Allora Allora l'idea è che io me ne torno nell'overboard Li faccio spawnare E poi li ho finiamo Per bene Molta per tutte Adesso razionalmente Non si può fare una cosa del genere Perché parca troia Io Ci ho messo Ho sprecato 3 underpearl Eh Un botto di carote E ho fatto solo quella parte là Ma perché Rispawnano in continuazione Perché c'ho lì Cosa Cioè Ti avvicini Stai 3 secondi lì E ti inizia a massacrare di botte Non si può Oggettivamente non si può E non si può fare una roba del genere Comunque Beh non male È soltanto questione di tempo Metto tipo due blocchi a volta Però Figa Ci si riesce Fidatevi di me Comunque ragazzoli Spero che il video vi sia piaciuto In tutti i casi vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi voglio lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere il video su Facebook E fammi lasciare una persona Mi raccomando Passatevi tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Siamo come al solito Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi